proprio che in questo sport si possa foldare il 2K ma infatti che secondo me non si possono praticamente mai foldare cioè Phil Gordon nel suo libro dice li ho foldati una sola volta in vita mia e ho fatto male a foldarli e infatti su e adesso si li tirano addosso si mancava anche Luca per la televisione si guarda intorno gli viene da ridere gli dice ammazza che vi ho beccato vediamo il giocatore tedesco che non vede l'ora spera che anche Luca entra nel piatto un po' di scena per la televisione controlla se veramente ha due assi ma c'erano due punte o era asso 4 sta chiedendo il tag ma che ha ma che è sta cosa ma che davvero io in tempi non sospetti l'aveva detto l'aveva detto Claudio Suissi Rinaldi l'aveva detto mamma mia escono perché è una decisione difficile ma adesso gli darà uno schiaffo il capitano tedesco perché non lo so vediamo se ci sarà uno schiaffo adesso la cosa straordinaria sarebbe se torna al tavolo e fonda perché il capitano si si non rischiamo andiamo a urlare beh Suarto adesso suarto adesso spera solo che avrà donna donna ma questo è uno slorollone storico si si no Suarto adesso quando dovrà girare due assi si arrabbierà questo è lo sloroll della storia lo sloroll del secolo col suarto gira due k e trova due assi vediamo le risate al tavolo questo è lo sloroll della storia questi pagano come rite ho riconosciuto pagano la risata inconfondibile di Luca Pagano invece non c'avevo idea di quello che vogliono fare lo sloroll lo sloroll del secolo lo slorollone della storia guarda si merita lo scoppio come pochi nella storia guarda specialmente se sei un giro i tedeschi sono disgustati con le ripostazioni merita lo scoppio vogliamo due k al flop veramente ha visto che ha compilato questo ha chiesto il time gli ha dato all in con kk su arto e quello con due assi ha chiesto time per andare a parlare con il capitano se fare collo o no stavamo raccontando un'area di pochi trasplotti che è incredibile lo sloroll della storia per scherzo l'aveva anche detto per scherzo claudio ha anche detto pensa se questo dopo va a chiedere il break per chiedere consiglio al capitano l'ha fatto davvero magnifico ragazzi solo ai pretty live vediamo queste cose dai kkk runner il tifo è tutto per il k si si merita davvero troppo disgustato su arto tra l'altro su arto poi se perde questo colpo crollerà nel check out k al river su c'era la figura ma è un check la Germania è la doppia Germania rimane viva e può ancora avvistare il successo dell'anno precedente si porta 80.000 mio dio che slow roll amici che slow roll mi dispiace che infatti il capitano si sta spiegando con il resto della squadra canadese